buongiorno e buon giovedì a tutti oggi buona giornata per lo scorpione con nuovi inizi mentre il toro deve stare attento a riporre la fiducia nelle persone giuste ariete oggi sarete particolarmente sensibili e intuitivi non ascoltate i pettegoli discutere con loro non vi farà bene e non vi aiuterà a risolvere i problemi non è il momento ideale per chiedere prestiti o promozioni sul lavoro toro oggi evitate di confidarvi seguite il vostro cuore e tenetevi stretti i vostri segreti non cercate comprensione o aiuto ad amici e parenti non vi capirebbero e sareste solo delusi cercate piuttosto di farcela con le vostre forze e con il vostro metro di giudizio gemelli oggi siate concreti e non fatevi illusioni inutili collaborazioni appuntamenti contatti tutto abbastanza bene qualche problemino ci sarà però in amore qualcosa da risolvere in casa e cambiamenti che non vi piaceranno molto cancro oggi potrebbero esserci importanti novità in amore fate in modo di accogliere le novità sempre con il sorriso sulle labbra ciò che inizierete in questo giorno sarà fortunato e riuscirà e presto ne avete grandi benefici cercate solo di restare sempre voi stessi leone avete bisogno di staccare la spina non è il momento di immergersi in questioni più grandi di voi prima fate una pausa se pensate di non avere più speranza in una questione d'amore sappiate che non tutto è perduto e qualcuno magari proprio in giornata potrebbe averne dimostrazione pratica vergine bene il lavoro mentre in amore assisterete a delle altalene nel comportamento del vostro partner del resto anche voi vi sentirete un po annoiati e frastornati avrete a che fare con persone più anziane che vi daranno la loro fiducia fate volontariato e datevi da fare per gli altri bilancia oggi sforzatevi di credere di più nell'amore anche se avete avuto molte delusioni in passato dovete togliervi dalla testa l'idea che il peggio capiti sempre a voi a breve avrete le vostre opportunità un'amica potrebbe farvi qualche domanda indiscreta cercate di essere riservati scorpione buon momento per qualche piccolo investimento iniziate cose nuove cambiate qualcosa nel vostro look regalatevi per esempio qualche vestito nuovo trascorrete la serata con amici e cercate di evitare in ogni caso i pettegolezzi sagittario oggi potreste dover affrontare una vecchia grana cercate di ottenere un accordo a voi favorevole cercate di usare maggior diplomazia se avete a che fare con conoscenti o colleghi arroganti cercate di essere più espansivi e dimostrate il vostro affetto agli altri capricorno se vi accorgete di aver sbagliato oggi chiedete subito scusa meglio un'umiliante sincerità che passare per superbi favoriti i viaggi e i contatti con persone influenti soprattutto se superiori potrete ottenere benefici e prestiti da altre persone buono e gratificante anche il lavoro acquario riconquistate al più presto la fiducia e la stima di chi vi sta a cuore e siate umili cercate di fare nuove amicizie e di uscire di più sul lavoro buone prospettive non abbiate timore a insistere per una questione che vi sta a cuore sarete ascoltati pesci oggi non fidatevi troppo di alcune persone non ascoltate i loro consigli e mostratevi particolarmente coraggiosi nelle scelte se proprio non potete tacere su alcune cose che vi danno fastidio cercate almeno di esprimersi in modo che tutto possa essere preso come uno scherzo